Erika Zini presenta Bookmania Estate Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero Bookmania Estate, un'esclusiva di TV Un saluto a tutti e bentornate all'appuntamento speciale Bookmania Estate dove vi consigliamo le letture migliori in questo periodo e non solo ma in particolare d'estate si sa il tempo è maggiore e quindi abbiamo un sacco di proposte per voi quest'oggi è nostra ospite Chiara Venturelli, benvenuta con noi Grazie mille Erika per avermi invitato È davvero un piacere perché l'anno scorso sei stata nostra ospite per presentare per parlarci del tuo primo romanzo che era Lezioni di seduzione che eccolo qua lo facciamo comparire magicamente e più che altro ci hai deliziato nell'ultimo anno anche di un altro romanzo che a noi è piaciuto particolarmente e che si intitola Onde di velluto come la regia ha già inquadrato perfettamente tra l'altro due copertine splendide dopo aver parlato nelle puntate precedenti di romanzi dai toni piuttosto intensi come temi come l'immigrazione, temi come la mafia e i colletti bianchi quest'oggi ci siamo concessi una puntata di Meritato Relax perché nel periodo estivo c'è bisogno anche di questo e l'anno scorso, proprio a giugno se non sbaglio, è uscito Lezioni di seduzione per chi ancora non l'avesse sentito per Centauri a libri raccontaci un po' chi sono Jack e Liz, ovvero i due protagonisti Allora, Lezioni di seduzione è una commedia romantica ambientata in un college americano quindi la tipica commedia anche estiva da ombrellone Jack e Liz sono due giovani studenti di un corso di teatro Jack è aspirante attore e Liz è studentessa che si ritrova nel corso sbagliato alla ricerca di crediti pensando di fare tappezzeria si ritrova invece a essere scelta come protagonista in un'opera teatrale dal titolo discutibile Lezioni di seduzione è un'opera in costume, dai toni un pochino piccanti quindi sarà una difficoltà per lei interpretare questa nobile donna Catherine timida ma in qualche modo anche disinibita e Jack nei panni di William dovrà cercare di sedurla, di darle lezioni ma qui realtà e finzioni si intrecciano dal palco e fuori dal palco non sappiamo se è Jack che seduce Liz, se è William che seduce Catherine, se è Catherine che si fa sedurre è tutto un gioco di specchi e di finzione ecco però la nostra protagonista Liz è decisamente un peperino e soprattutto non ama stare sotto i riflettori quantomeno in atteggiamenti particolari e quindi ci saranno equivoci, situazioni comiche ma anche un po' passionali anche se è una lettura comunque adatta ad un pubblico dal più giovane in su senza entrare in dettagli però insomma si gioca tutto su questa loro alchimia che è la parola magica usata anche dal professore Folle perché questo professore che non viene mai nominato se non come il pazzo ha creato quest'opera un pochino sui generis e ciò che vuole sul palco è l'alchimia tra i protagonisti ci viene un po' da pensare non è che ha visto fuori dal palco qualcosa tra loro e cerca di portarlo con un esperimento un po' metateatrale qui ci rimane anche un po' il dubbio esatto, tra l'altro è un libro che si può definire romance come dicevamo ma è commedia perché tra Jack e Liz comunque l'alchimia c'è non soltanto dal punto di vista dell'attrazione ma anche dal punto di vista dei dialoghi che sono estremamente brillanti, divertenti lui è un po' arrogante un pochino particolare soprattutto quando recita lei non sa mai se recita o se è se stesso fino al punto vocale del libro sì è molto dialogato il stile è molto leggero ci sono poche descrizioni è più come un copione che come un'opera più introspettiva ed è un romanzo davvero ideale da ombrellone ma anche all'ombra di un bellissimo albero in un giardino in montagna devo dire estremamente godibile io ricordo che non riuscivo a staccarmi dalle pagine perché a ogni capitolo succede qualcosa questo forse un po' perché deriva da un sito l'abbiamo parlato l'anno scorso però lo ribadiamo EFP dove nascono storie di autori bravissimi come te nascono con la concezione di puntate e quindi in ogni puntata deve succedere qualcosa trasformandolo in un libro fondamentalmente in ogni capitolo deve succedere qualche cosa e quindi è un meccanismo che pur avendo avuto delle variazioni rispetto a quello che era disponibile online ha questo meccanismo di catturare l'attenzione continuamente e in maniera a volte piccante, a volte divertente a volte anche drammatica perché ci sono anche dei momenti un pochino particolari in seguito agli equivoci comunque quando si sviluppa tra di loro i primi abbozzi di fiducia perché è difficile comunque stare tanto a contatto con una persona e non sapere chi ti trovi di fronte e qui ho un po' giocato perché in realtà Jack si indossa una maschera perché è il suo personaggio sul palco però in qualsiasi situazione sociale ci troviamo quando conosciamo qualcuno per la prima volta in qualsiasi contesto non soltanto in amicizia e in amore non sappiamo mai come rapportarci abbiamo tutti un po' le maschere almeno soprattutto all'inizio e quindi per Liz che è timida non è abituata a socializzare così tanto e così velocemente magari tante ragazze si possono ritrovare in lei un po' a me ci sono ritrovata anch'io anche se è un personaggio totalmente diverso da me è anche molto più giovane però sai sì è una studentessa al primo anno quindi è un personaggio diverso da quello che ho creato poi nel libro successivo insomma ecco devo rassicurare chi avesse già letto lezioni di seduzioni che c'è anche un seguito so che tu ci stai in qualche modo lavorando dico che però non è terminato questo romanzo con qualcosa di aperto o meglio così aperto da non ritenerlo autoconclusivo per cui chi volesse anche solamente leggere intanto il primo avrà la sua conclusione perfetta insomma poi siamo certi che vorrete anche voi sapere di più di Jack e Liz e quindi noi incrociamo le dita per poterlo leggere presto ma nel frattempo hai dato prova di un'opera prima tua non nata sul web ma nata proprio da un'ispirazione si potrebbe dire di un programma radiofonico e per questo a noi è subito piaciuta questa idea parole note lo possiamo dire perché tra l'altro è un programma che aveva sostenuto l'uscita di lezioni di seduzioni appunto di Centauria quindi volente o nolente ha imparato a conoscerlo e da lì si è diventata una seguace del programma decisamente che noi consigliamo esattamente quando va in onda e su quale radio? va in onda su Radio Capital mercoledì notte adesso nella pausa estiva ci sono le repliche ma continua la cosa bella sono le live che intrecciano appunto letture di prosa e di poesia musica e video che passano sul grande schermo è un grandissimo un'unione di arte a tutti i livelli che coinvolge assolutamente e ho avuto la fortuna di conoscerlo appunto grazie al progetto Talent di cui ha fatto parte lezioni di seduzione e Giancarlo Cattaneo insieme al programma appunto parole note di Maurizio Rossato ha letto un estratto di lezioni di seduzione e quindi ho conosciuto questo programma e mi ha fatto compagnia durante la scrittura di Ondi di Velluto ed è entrato fisicamente dentro a Ondi di Velluto perché di fronte al mio primo vero grande inedito ho cercato ciò che amavo di più nel vicino nel presente e nel passato e quindi non potevo non citare comunque i podcast le letture che coinvolgono ecco infatti la radio non è presente all'interno di Ondi di Velluto però c'è questo programma che è tenuto da Alex il protagonista maschile di Ondi di Velluto che ha una voce molto simile a quella di Giancarlo Cattaneo devo dire una voce estremamente affascinante e Alex ogni venerdì se non sbaglio a mezzanotte pubblica questo podcast che per chi non fosse avvezzo questa parola è praticamente un programma in voce pubblicato però su internet online esatto dove legge un racconto che gli è pervenuto dai suoi follower dalle persone che lo seguono e tra queste c'è anche una ragazza che scrive Bianca di Bologna nonostante non sono io Bianca però diciamo che a Bianca ho dato il mio grande amore che è appunto la scrittura e il mondo di Bianca è il mondo degli autori come quelli che ho conosciuto io negli anni di chi pubblica online di chi si mette in gioco e pubblica le proprie cose in questi siti in questi contenitori qui ho giocato con la possibilità di mandare ad Alex per fargli leggere appunto questo racconto Alex legge Binario 7 il racconto di Bianca e doveva finire lì perché una delle regole di Ondi di Velluto il podcast di Alex era un'esperienza unica una lettura unica però cosa succede? Alex si incuriosisce i follower che interagiscono con il programma si incuriosiscono e chiedono una continuazione quante volte succede nel mondo degli autori l'ho appena fatto anch'io che ti ho chiesto esatto perché tutti lavoriamo siamo tutti potenzialmente autori di fanfiction anche solo nella nostra fantasia perché vogliamo sempre sapere cosa succede dopo insomma e quindi così tra Milano e Bologna si instaura una sorta di ponte esatto perché uno dei temi che mi è caro e che volevo appunto trattare nel romanzo era l'amore a distanza prima di tutto l'amicizia che poi ovviamente adesso non faccio spoiler per un romanzo rosa capiamo che poi si trasforma in amore a distanza è nato appunto online perché in questa epoca estremamente social è molto semplice conoscersi online e sviluppare relazioni che siano di amicizia di amore a diversi livelli e quindi Alex è di Milano e Bianca è di Bologna la distanza non è così grande però la distanza porta sempre dei problemi che sono un po' il cardine di tutto quanto e al di là dell'amore a distanza quello che mette in contrapposizione Alex e Bianca è la loro solitudine che è quello che mette in comune tanti di noi secondo me perché la solitudine sia quella di Alex che è estremamente solo perché non ha famiglia vive di notte perché fa il portiere notturno in un albergo e quindi è fisicamente solo Bianca invece ha tanti amici una famiglia numerosa lavora al ristorante dei genitori in centro però si sente sola perché nessuno sa che scrive nessuno sa che ha questa passione siamo tutti un po' soli sì e tra l'altro tu hai giocato davvero molto sui contrasti e in parte anche sulle somiglianze ma i contrasti sono veramente evidenti infatti come hai citato anche tu Alex è la notte è l'oscurità è la solitudine è anche l'essere il bastare a se stessi lui ha molto questa cosa cerca sempre di aiutare gli altri ma lui è sempre un po' chiuso nel suo spazio tanto che anche la sua trasmissione la registra da casa in un suo angolino è molto notturno come personaggio tendenzialmente chiuso nonostante abbia questo programma in cui però nessuno lo conosce nessuno lo conosce nessuno lo vede nessuno sa come si chiama ed è emblematico perché in un'epoca in cui tutti siamo sui social Instagram selfie lui non ha nessuna foto non si è mai fatto vedere nessuno sa chi è potrebbe essere chiunque addirittura all'inizio non si sa nemmeno in che città esatto non dice nemmeno questo Bianca invece di contro sia a livello di carattere che proprio a livello di vita è il giorno è l'allegria è comunque anche la voglia di vivere insomma è una persona molto attiva una famiglia a volte anche ingombrante perché ha una sorella con cui va d'accordo ni diciamo insomma si amano però alla fine sono molto diverse e quindi ho immaginato io sono figlia unica quindi ho cercato di immaginare come potrebbe essere un rapporto controverso e chi ha sorelle mi ha detto che ce l'ho fatta insomma che ho reso bene nonostante abbia lavorato di fantasia ho guardato e ho cercato di immaginare come potevano essere insomma queste due ragazze con pochi anni di differenza ma ha un carattere molto diverso insomma e lei ha una vita molto piena come dicevi tu ha anche un fratellino più piccolo che comunque è da seguire perché i genitori lavorando sono dei ristoratori esatto a cosa poteranno fare i genitori di Bianca a Bologna se non i ristoratori poi sappiamo che tu hai anche una nonna bravissima a cucinare e quindi ti ha dato l'ispirazione anche lei infatti il personaggio della nonna diciamo che è ispirata un pochino alla tradizione della mia famiglia le ho dato il nome della mia bisnonna e le ricette di mia nonna che sono le ricette di famiglia quindi dentro a onde di velluto si respira la Bologna la Bologna vera la Bologna che mangia il panone a Natale la pinza i tortellini e le lasagne quindi Bianca infatti è una 22enne ma è cresciuta con la tradizione culinaria bolognese e si scontra con un cittadino milanese come Alex che è abituato al take away alla cucina etnica che per lei è impensabile adesso io farò uno spoiler me lo perdonerai ovviamente ma lei cercherà di corromperlo con una lasagna e devo dire è estremamente tipico di noi bolognesi cercare di prendere per la gola voi fate finta di non aver sentito però lei è una cosa che anche questa tattica no più che altro impietosita dal fatto che il poverino abitando da solo un ragazzo insomma fa quello che può non mi rendo conto che per noi bolognesi è la prima cosa hai mangiato e quindi è normale un residuo delle nonne ma in realtà ce l'abbiamo anche noi più giovani insomma e rompiamo piuttosto le scatole e diciamo che Bianca ci tiene alla sua salute Alex e quindi col mangiare ecco lo dico per tutti coloro che sono di Bologna ma anche per chi non lo è e volesse fare un viaggio a Bologna ritrova davvero tantissimo della città all'interno di questo libro perché c'è proprio un tour che si può fare nei principali posti di Bologna ho sfruttato l'Alex turista e la bianca cittadina per far vedere la Bologna come la viviamo noi come può apparire la cosa bella e fare vedere attraverso gli occhi di chi viene da fuori ciò che per noi è scontato perché per noi il Nettuno è lì adesso è coperto nel libro non lo è scusate mi sono presa la licenza ma non possiamo stare senza il gigante e far vedere il gigante anche da fuori e quindi ci sono un po' i luoghi cardine della città la finestra di via Piella sala borsa sala borsa sala borsa è una scena molto importante nel libro anche e viviamo Bologna come è una Bologna questa vista da chi comunque da chi la ama io sono della provincia quindi la vivo di giorno per me è sempre stata la città universitaria la città della passeggiata domenicale e quindi è una Bologna solare è una Bologna turistica è una Bologna piena di vita di cucina soprattutto e ho lasciato da parte insomma i più i chiaroscuri della cronaca per dare il bello che possiamo far vedere insomma poi Bianca è così solare non potevo e devo dire forse voi telespettatori vi sarete già accorti che questi due romanzi sono pieni davvero di buoni sentimenti e così sono anche i personaggi devo dire l'ho trovato estremamente controcorrente e piacevole nel senso che ultimamente siamo abituati a leggere romanzi dal rosa al thriller pieno comunque di drammi di personaggi comunque controversi di problemi psicologici di problemi materiali invece qui tu hai fatto proprio una scelta ben precisa nei personaggi da questo punto di vista hanno chiaramente i loro problemi come tutti noi ovviamente Alex comunque ha avuto lutti ha avuto però ho sempre cercato di calcare sulla speranza sulla crescita perché comunque il prodotto finale per me era una storia che disse speranza una storia d'amore che veicolasse sentimenti non soltanto di amore ma anche amicizia perché ci sono sempre personaggi secondari amici che aiutano le coppie aiutano anche dando una visione controcorrente perché in onde di Velluto l'amica di Bianca è un po' la voce della ragione quante di noi si farebbero sentite dire dall'amica ma come vai a incontrare una persona che non hai mai visto potrebbe essere chiunque e quindi infatti loro si incontrano sempre la prima volta in pubblico mi raccomando però non ci sono personaggi maschili cattivi o che compiono azioni no i miei uomini sono sempre un pochino forse da altri tempi anacronifici non lo so sono io ragazzi io penso sempre anche a un personaggio maschile non farei fare mai qualcosa che da donna non perdonerei perché uno può medesimarsi o meno nella protagonista femminile però se l'uomo diventa assolutamente o violento o la tradisce o non ha giustificazioni valide per il suo comportamento smette di essere l'eroe romantico e quindi perde un po' quello che era il messaggio insomma quello che era la volontà di dare un momento di svago di relax di sogno almeno nei libri leggiamo qualcosa che questo che vorremmo qualcuno che vorremmo incontrare davvero nella vita reale ci sono queste persone e quindi è giusto anche cercare di vivere questi sentimenti in maniera onesta pulita non senza incomprensioni perché abbiamo visto ce ne sono tantissime ma come è poi la vita di tutti i giorni quindi se volete un libro davvero divertente e rilassante per lezioni di seduzione che vi faccia sognare per onde di velluce devo dire segnatevi il nome di Chiara Venturelli perché senz'altro la risposta è in questi due libri devo dire li ho entrambi divorati quindi sono certa di quello che vi sto dicendo perché come avrete notato non sono una particolare fan dei libri romance ma quando sono scritte bene le storie sono tutte davvero molto belle e io ci tengo intanto ad averti qua mi è fatto davvero tantissimo piacere sono curiosa di vedere cosa ci proporrà prossimamente ma arrivati verso la fine della nostra trasmissione sai che qua stiamo dando consigli per le letture estive e anche a te prima della trasmissione ho chiesto di prepararti so che tu tra l'altro oltre a essere una scrittrice sei una divoratrice di libri sei forse prima ancora una grande lettrice sempre lo dico sempre sono più lettrice sempre sarò lettrice assolutamente ti ho gettato nel panico nel panico nel panico nel totale perché chiedermi di scegliere ho ridotto il più possibile la rosa le ultime uscite ho ridotto ancora e poi ho pensato che non era giusto chiedessi un consiglio da sola perché in casa mia si respira lettura si respirano libri e nella valigia c'è sempre il libro per tutti e quindi mi porto tre consigli uno mio uno di mio marito uno di mia figlia allora la tua bellissima Melissa quanti anni ha lo diciamo allora Melissa 4 anni e consiglia eccoci le storie dei poni questo perché in libreria la lascio libera di scegliere e quindi è un libro coloratissimo è coloratissimo soprattutto le pagine sono a prova di bambino è una cosa importante voglia far vedere un interno così per dare un'idea ecco oh che bello esatto e anche per lei chiaramente lo leggo io però sfogliarlo ricostruisce la storia che conosce meglio di me e quindi l'importante è questo io la lascio in libreria di scegliere quello che vuole poi chiaramente le do anche consigli in modo che accompagno la sua crescita partendo dai cartonati ai libri tattili adesso siamo arrivati ai libri che può sfogliare l'importante secondo me è per i bambini piccoli abituarsi al libro a sfogliarlo ad averlo ad amarlo fino insomma in questo e quindi ho chiesto a lei mio marito invece ha proposto papà Van Basten e altri supereroi di Edoardo Maturo edizione book e book sui testuali parole è un libro per tifosi per tifosi di calcio non soltanto milanisti poi vi spiego perché per i tifosi per i tifosi di un calcio nostalgico che magari non è più come i tempi d'oro perché è la storia di un papà che racconta il suo bambino di tre anni delle favole con protagonisti grandi eroi del calcio degli anni 80 e 90 questi sono milanisti però è un po' per tutti per i papà per i 30 40 anni per i giovani per chi vuole sempre sognare anche nelle favole anche in ambito sportivo come dicevi l'obiettivo era quello di far diventare milanista al bambino ma non diciamo se ci sarà riuscito alla fine però senz'altro sarà riuscito a fargli apprezzare questi l'ha letto anche a mia figlia e pian piano riusciamo ok l'ultimo consiglio il tuo consiglio è stato io consiglio gli effetti collaterali delle fiabe di Anna Nicoletto perché l'ho già letto due volte e quindi con me ho scelto non solo leggi tanto ma leggi anche due volte ho scelto il romanzo che fosse più vicino alle mie corde leggo di tutto però vedendo ciò che scrivo volevo consigliare qualcosa che fosse simile è un bellissimo romance molto ironico molto divertente ma molto reale cioè Anna è riuscita a intersecare le fiabe con la realtà non vi svelo altro la protagonista si chiama Melissa come mia figlia quindi questo è già un punto a favore l'edizione è veramente molto bella ci vuoi leggere un pezzottino? è solo un punto più in alto degli altri per cadere è solo un modo migliore per farsi male eppure adesso sto bene chiudo un po' gli occhi un po' li tengo aperti un po' immagino e un po' realizzo che ciò che immagino e ciò che sta accadendo coincidono in modo imbarazzante è solo una fantasia l'effetto collaterale di una fiaba mai raccontata ma seppur per poco la sensazione esiste e quindi le fiabe che si scontano con la realtà e anche qui c'è un po' un gioco di specchio un po' come quello che hai voluto fare tu in altro modo ovviamente con lezioni di seduzione a questo punto siamo arrivati al termine anche di questo appuntamento per me terminano sempre troppo presso devo dire quando parlo con tempo è velocissimo il tempo abbiamo sempre argomenti interessantissimi da dire ai nostri telespettatori quindi il tempo vola io ti ringrazio per essere stata con noi consiglio ancora una volta lezioni di seduzione vediamo se le ho messe in maniera corretta e onde di velluto per le vostre letture estive per chi ama i romance poi i romance puliti veramente romantici dolci per tutte le età per tutte le età le ha lette anche mio nonno 82 anni in onde di velluto ha trovato la sua Bologna quindi è una Bologna che vale per tutti diciamo che è il timbro di garanzia a questo punto esatto da Bolognese doc esatto allora Chiara grazie per essere stata con noi e niente l'invito è ovviamente per la prossima volta che ci scriverai un libro noi speriamo prestissimo e ti aspettiamo qui grazie ancora grazie mille a tutti fate buone letture esatto buona estate ma restate con noi perché comunque mercoledì alle 18 torneremo insieme con un'altra proposta per l'estate un saluto a tutti e buona giornata Erika Zini presenta Bookmania Estate interviste anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero Bookmania Estate un'esclusiva di tv un'esclusiva di tv